Le due ruote in gravidanza sono libere, bicicletta e motorino sono consentiti. Le vibrazioni dell'asfalto non sono preoccupanti anche se potrai sentire una vibrazione dentro l'addome. L'utero vibra ma non è pericoloso. Negli ultimi mesi invece è meglio evitare perché una perdita, uno sbilanciamento dell'equilibrio potrebbero dare una caduta perché è difficile mantenere il baricentro.